Ho sempre pensato che bisognasse evitare certe esagerazioni nella società perché dopo un po' se si esagera la società finisce male e tutto questo è stato dimenticato e dimentichiamo forse che la gara fra tanti di noi a accreditarsi col pensiero unico, insomma chi è stato più ascoltato negli ultimi anni nei grandi media nazionali? Quelli di sinistra che scrivevano cose di destra ed è tuttora così adesso non faccio nomi di giornale di persone ci potremmo divertire perché è un bellissimo gioco. E certamente io non sono mai stato un rivoluzionario, sono emiliano, grasso, pacifico, ho tutta la struttura intellettuale del riformista. Però il riformismo esige coraggio, esige coerenza, esige disciplina e qui mi distacco dall'interessantissimo libro dell'autrice. A un dato punto qui la denuncia di tutti questi drammi è fatta benissimo, cioè c'è tutte le ingiustizie, i problemi, le varie... Però poi a un dato punto nel rimedio c'è in fondo un richiamo al nazionalismo, vuol dire quando il Fondo Monetario Internazionale non va bene perché ci impone questo, l'Unione Europea non va bene perché ci impone quell'altro, qui siamo a una curva del mondo, allora o noi riusciamo ad affrontare l'aspetto di coesione fra i paesi e di ricerca di un'autorità sovranazionale oppure c'è il caos assoluto. E' per questo che la curva in cui noi siamo adesso è una curva così difficile, così drammatica, perché non è che noi usciamo da una crisi del genere con il salvataggio ad uno ad uno dei singoli paesi, dicono, cioè quando anche si parla qui, come ha ricordato la intelligente gentile autrice del default pilotato della Grecia, ma se si comincia col default pilotato qui c'è un default totale, ma chi lo pilota il default se non abbiamo una forte autorità? Non lo pilota neanche Alonso il default della Grecia, ma oh, dico, vuol dire dare inizio a un processo di caduta e di default di tutti gli stati che non avrà mai fine. Qui si esce con un senso di forza europea, con un abbandonare il discorso dell'individualismo nazionale, certamente con la Germania di oggi e con la Francia di oggi e con l'Italia di oggi è difficile, ma sono convinto, e anche se appena appena il dibattito di oggi al Bundestag va in questa direzione, che alla fine non conviene a nessuno mandare all'aria l'euro, perché nel mondo di oggi, e qui un limite del libro, ma siccome aveva scritto altre ordine sulla Cina, prendiamo l'autrice anche con questo, proprio che non viene messo in rilievo come questa crisi venga da una sbagliata interpretazione del capitalismo del mondo, ma venga anche perché il capitalismo è messo a dura prova da nuove forze enormi che stanno crescendo, cioè c'è mezzo mondo che sta venendo in superficie, e noi non possiamo mica pensare che questo si faccia spazio senza che ci siano dei grandi scossoni. Scusate, ma nella storia dell'umanità si è sempre usciti da una crisi del diedero in due modi, o con l'inflazione o con la guerra, e noi abbiamo l'obbligo morale, politico di uscire, o con l'inflazione, senza inflazione e senza guerra. Questa è la grande sfida, ma allora lo dobbiamo recuperare con la politica, con la politica e con la politica nel livello nazionale, ma anche capendo che abbiamo bisogno di forti legami internazionali per arrivare a questo risultato. Quello che mi auguro è proprio che il contagio sia non solo il contagio salutare dei ragazzi delle diverse piazze, ma la risposta del contagio di ricercare un'unità di azione senza la quale, ripeto, si finisce o nell'inflazione o nella guerra. Grazie.